Cosa ne pensate questa giornata? La grande! Siamo a Bazzi, a Sport Out, una situazione organizzata a Berconi sulla regione lombardia. Siamo qui perché stiamo avendo un buon successo per far sì che i ragazzi, anche quelli di zone un po' isolate, evidentemente isolamenti funzionali, non un altro, possono godere la scienza di alcune discipline sportive che solitamente non sono viste nelle manifestazioni. Winchung, per esempio, è uno di questi, con il maestro Vommaro che ci mostrerà oggi e farà provare ai ragazzi qualche tecnica di Winchung. Signor Cremonesi, grazie mille. No, 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 no... Grazie a tutti.